Il gruppo Estra, a sostegno delle strutture sanitarie in prima linea per fronteggiare l'emergenza coronavirus, dona 100.000 euro, 25.000 a nosocomio, agli ospedali di Ancona, Arezzo, Prato, Siena. 90.000 studenti e 696 scuole, 277 in Toscana e Marche aderiscono a Energicamente, le lezioni ambientali online di Estra e Legambiente, che in tempi di Covid sono un valido strumento di didattica a distanza. L'emergenza coronavirus, Estra, non applicherà gli interessi di mora, normalmente previsti, sulle bollette di luce e gas di Estracom, scaduto o in scadenza, tra il 9 marzo e il 20 aprile. Il pagamento dovrà però avvenire entro il 30 aprile. Restano chiusi fino al 3 maggio l'ufficio al pubblico di Estra. Per i clienti, canali alternativi, riservati e sicuri di comunicazione e servizio, per svolgere le stesse pratiche degli uffici aperti al pubblico.